Cosa molto bella che vorrei fare è un augurio a tutta la nostra cittadinanza di un felice De Natale e di un sereno anno nuovo. Lo faccio a nome di tutta l'amministrazione, del sindaco e dei miei colleghi di giunta con l'auspicio appunto di raccogliere nel prossimo futuro risultati splendidi per tutti i nostri concittadini.